Lecce, prima i post a sfondo razzista su Facebook, poi l'incendio di 5 biciclette utilizzate dai migranti. Ad Alezio non sembra essere stata presa bene l'attivazione di una struttura di accoglienza destinata a ospitare 18 persone richiedenti asilo. L'onda anti-immigrati si muoveva da diversi giorni sui social network, dove qualcuno aveva persino ipotizzato di dare fuoco al dormitorio, e nella notte tra l'1 e il 2 ottobre si è trasformata in un episodio inquietante. Diverse biciclette erano parcheggiate davanti alla struttura di via Garibaldi, nel centro del paese, quando i gnoti hanno appiccato il fuoco. Cinque mezzi sono andati distrutti e i carabinieri hanno avviato le indagini. Al vaglio degli investigatori ci sono anche le esternazioni poco edificanti, fatte da diverse persone su Facebook. Commenti negativi sulla presenza dei migranti ad Alezio, ai quali hanno fatto da contraltare condanne altrettanto decise di quegli atteggiamenti dichiaratamente razzisti. Molti post sono stati scritti da salentini che abitano in altre regioni d'Italia, altri da abitanti di Alezio, che rivendicano la necessità di mantenere la tradizione, che vuole il Salento come terra di accoglienza.